festa e devozione per santa rita fortissimo l'attaccamento della città di nocere inferiore alla santa dei casi impossibili in migliaia per tutta la giornata foleranno la parrocchia dedicata ai santi simone giuda al quartiere di casolla che ne custodisce le figie un fiume di persone e di rose ne saranno distribuite poco meno di 10.000 che affida alla santa di cascia gioie dolori e speranze in attesa della processione di domenica con le tradizionali cascate di petali di rose santa rita è donna giovane sposa madre monaca santa rita è donna di carisma e donna di dio è santa degli impossibili perciò ci sono tante persone perché tante persone portano i loro dolori ma anche le loro speranze santa rita non è solo una donna di un altro tempo è una donna del nostro tempo è la donna che vive accanto a ogni uomo piagato nella storia l'afflusso a santa rita è molto importante perché gente la gente viene ad ascoltare la messa anzitutto perché santa rita ha dita sempre a gesù e poi perché la gente vive il tempo della festa è giusto fare festa noi caratterizziamo la nostra festa naturalmente con con le rose e ci saranno nel corso di questi giorni l'offerta della rosa santa rita che è segno di questo dono che vogliamo portare a lei e poi ci saranno le cascate delle rose domenica prossima ci sarà la processione alle quattro e mezza e durante la processione durante le nelle strade della nostra comunità le famosissime cascate di rose dove ci saranno veramente migliaia di persone si esibiranno con canti popolari e tamorre e sono diventati famosi ormai i nostri ragazzi e credo sia un vanto della nostra comunità avere i figli del vesuvio non solo a casolla ma un po su tutto il territorio nazionale poi avremo un neomelodico naturalmente leo ferrucci e poi il 26 l'artista capozzi la cosa più bella è che le serate saranno vissute all'insegna della fraternità già a partire dal piazzale della nostra parrocchia a partire dal piazzale della nostra parrocchia